Giulia eccoci, com'è stato entrare in questo personaggio, è stata una trasformazione fisica, una trasformazione psicologica perché un personaggio lontano da te, insomma, se ne è detto tanto, cosa ti ha lasciato? Mi ha lasciato sicuramente delle cicatrici emotive comunque belle profonde ma perché quando intraprendi il tipo di percorso, di cambiamento fisico per questo tipo di lavoro è inevitabile perché appunto te lo porti a casa, ti svegli con quella fisicità e hai modo di sedimentare poi le emozioni del personaggio quindi sicuramente è un lavoro molto delicato però ho avuto accanto tra l'altro un cast meraviglioso abbiamo fatto questo lavoro collettivo tutti insieme ed è stato bellissimo